Con la fine del 2013, ormai alle porte, il Presidente della provincia di Arezzo ha indetto una conferenza stampa per tracciare un bilancio di questo anno. Sono molti gli obiettivi raggiunti dalla Giunta Vasai, primo fra tutti la recente intesa preliminare per l'adozione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. È una firma importante che presuppone anche l'approvazione di tutti e tre i consigli a gennaio. All'interno di questo accordo ci stanno motivazioni importanti, ci stanno progettazioni che vanno dal non raddoppio dell'inceneritore alla chiusura entro il 2025 della discarica di Terra Nuova, che sono un po' il nucleo forte del piano che riguarda poi la nostra provincia. Poi ce ne sono altre cose che abbiamo fatto in questi anni a partire dai cantieri, che sono tanti, sono quattro importanti cantieri sulle regionali che stanno andando avanti. Non era detto perché abbiamo avuto dei problemi con l'impresa costruzione, quella del secondo e terzo lotto, quella del ponte in Val d'Arno, ma anche qui siamo riusciti a superarlo in quanto la nuova affidataria sta andando avanti, devo dire, in modo anche molto spedito. Ecco, è stato anche un anno importante per sciogliere il nodo dei famosi debiti che lo Stato aveva nei confronti della provincia. Sì, anche qui c'è stata una polemica, ma noi sapevamo davvero ragione, sono arrivati a novembre i 10 milioni famosi che lo Stato doveva alla provincia di Arezzo e questi ci hanno permesso di chiudere il 2013 con tranquillità e di affrontare, ci permetteranno il 2014 a questo ente di affrontarlo con speditezza e con un belancio serio e fondato.